Cosa ci faccio qui? Anzitutto sono qui per vivere appunto un cammino in questo mese di preparazione a quello che è qualcosa che il Signore Gesù mi ha messo nel cuore. Io credo che prepararmi per andare in missione così come la mia diocesi mi ha consegnato questo percorso è qualcosa di vocazionale. Ecco, io mi piace dire alle persone che incontro che non parto anzitutto perché bisogna aiutare, bisogna fare qualcosa perché c'è bisogno, perché i bisogni sono tantissimi nel mondo e dovremmo andare ovunque in ogni momento, ma perché dentro il mio percorso vocazionale, perché il Signore chiama continuamente, in questo momento particolare della mia vita Gesù mi ha fatto percepire e sentire che questo era il passo, quello di provare a condividere un pezzo della mia vita, del mio ministero, del mio essere prete in un'altra chiesa, in una condivisione un po' più vicina con la gente che vive nella povertà, un po' ai margini del mondo come stiamo sentendo appunto in questi giorni e quindi a questo Signore che chiama ho provato a dire sì e siamo qui per prepararci a questo sì. Ecco.